è rubato troppo? oh ma non penso iniziamo già bene chi ci ha ilmerati? buongiorno siamo in tre, sei, sette e otto perché mi sono scocci lì davanti ah non me lo ricordo neanche io ha detto che il suo allenamento ha fatto troppe volte balcava hai paura merda hai acceso la telecamera? si è accesa hai cambiato la sorta tu sei stivo stivo? non c'è niente ma sotto il soffo le stivo non è niente niente quanto pesa questa bc qua? la mia? non lo so ma la carbonica forse è per mezzo destra noi compagni dove sono i compagni? sono da solo? i tuoi amici? non c'è? no per l'altro non c'è non c'è non c'è non c'è ma staglie ovunque qua qualcuno ha già a schivarle no io qua scendo e non voglio furare prendi i castagni le castagne le castagne ma lele dov'è? sta lendo del suo non vuole che fura lui molto bene vabbè eh non vedo il motore qua pezzo a 18 vabbè è rimasto a 18 il gruppo davanti e ci hanno abbandonato qua ci sono 9 gradi il lago c'è nel medio di Civello e poi c'è anche il lago di Covo e va andate va andate va andate ah ciao ah c'è il barettino biglio dal giorno ma sei salita di qua? no di qua ah che far voglio vi avete raggiunto ma avete parcheggiato la macchina al meglio arriverà l'estate è ma fate il su bronzo adesso vedo e dice se non è né di dare ma vi imbrullè molto bene poi l'imbrullè quanto è ma avete visto il lele? il lele c'è? un po' l'ho visto di arancione ma c'è l'antiveito è caldo comunque non so voi ma tipo quando ho letto il cartello 18 per cento il girato ha detto no ah di nuovo visto il cartello c'è un toro è mia e mia ma la domanda arriva gente a mangiare salamella con questo ferdo qua arriva gente a mangiare salamella ma scusate signori avete per caso visto un ragazzino è qua vicino a voli si è quasi arrivato speriamo ma era così distante si è saltato giù venire su a piedi nei tratti duri beh se ti vuoi scaldare un po' vai a cercare lì dove c'altro l'altro? l'ho visto qua che ci andava di qua con la piccola ma come fate a stare con i pantaloncini? l'iva è pronto? si sta attento a berlo perchè non è ancora evaporato eh che senso è attento a berlo? poi se hai tirato il vino? cioè le mele ah le mele lo sai ma è venuto il vin brulé però eh siccome non è evaporato il vino ti dà ancora... guardate come ha già trovato qualcosa bravo lele è arrivato? sì ma un po' di vin brulé? sa che io si stava già meglio col vin brulé? mi sento già caldo dobbiamo mettere una borraccia se no qua non partiamo più no, è la borraccia vin brulé nella borraccia vin brulé nella borraccia niente acqua c'entra anche le mele andiamo vediamo 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 va bene ascendete giù di lato adesso facciamo roncola poi andiamo a berbetto via che freddo è gelata le gambe che gelata ragazzi ma direi cos'è il suo mangiare e stava fidando il pannino ma adesso vai tanto mai col loro recupero ciao ci vediamo arrivo ci vediamo Siamo iniziando a Milano Ando qua davanti A Milano mi sa che fece Si vede un c***o Si nota tanto qua Battilei? Signore battilei Grazie 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 Grazie